Tiè, questa la leggerai appena partiremo Allora, questa qua non me la prendo, aspetta, entra qui Questa, effe, non leggo niente! Questa me la prendo qua, poi la monto con le persone dell'IKEA Sì, te, non la leggo, guarda, la metto al contrario No! No, la metto al contrario Poi la monto con le cose dell'IKEA E dove vai il resto? E... e vi faccio un piatto Ciao, lo so che fai fa un piatto Dammi un abbraccio Ciao amore mio!